Presentiamo il separatore Plasma Statico, che sfrutta la potenza dell'elettricità statica per una separazione precisa. Attraverso la tecnologia avanzata del plasma freddo, ci immergiamo nelle meraviglie dell'elettricità statica, consentendo la separazione precisa dei tricomi botanici dai loro steli e dalle impurità indesiderate. Adattabile a qualsiasi biomassa alimentata, sia essa secca o appena estratta, il separatore Plasma Statico è l'epitome dell'efficienza. Ecco la scienza dietro tutto questo. Le particelle diventano cariche elettricamente attraverso l'elettrificazione tribale. Queste particelle cariche vengono poi separate utilizzando piastre alimentate con migliaia di volt. Ma è l'inclusione del plasma freddo che isola meticolosamente le preziose teste dei tricomi, regalandoti un prodotto di purezza ineguagliabile. E la genialità risiede nel suo approccio ecologico. Senza l'uso di sostanze chimiche, elabora fino a due tonnellate di polvere ogni ora, utilizzando solo l'elettricità. Imbarcati con noi in un viaggio per ridefinire il futuro della tecnologia statica. Grazie. Grazie.